in cui prepari la tua decisione, per esempio se hai il coraggio metterti in grande schiettezza con lo Spirito Santo e dire Spirito Santo ma cos'è che ti sta più a cuore in me, cos'è che ti nego da troppo tempo, qual è il no che ti sbatto in faccia a tutti i momenti, qual è la cosa che da tanto tempo chiedi e che io da tanto tempo ti nego, ecco e allora voi precisate il punto di conversione sotto la guida dello Spirito Santo, guidati dallo Spirito Santo, con probabilità se siete schietti lui vi fa luce, notate bene però una cosa, faccio subito una correzione a quello che ho detto, lo Spirito Santo non marcia a gettoni, voi fate un quesito preciso allo Spirito Santo, è sicuro che lui risponde ma non quando volete voi, quando vorrà lui, normalmente risponderà quando siete pronti ad accogliere la risposta, ma molte volte, molte volte vi risponde nel modo più impensato, nel modo più strano, nel luogo più strano, vi può rispondere attraverso la voce di un bambino, la voce di un responsabile, la voce di un peccatore, la voce nel modo più strano perché lo Spirito Santo ha una fantasia di quelle proprio fantastiche nel raggiungerci, ma il problema non è la sua risposta, scusate se vi dico questo, il problema non è la sua risposta, il problema è la vostra domanda, cioè la schiettezza con cui chiedete, questo è il problema, perché di sicuro lui risponde alla vostra buona volontà, lui viene sempre incontro alla vostra buona volontà, quando scatta in voi la buona volontà, quindi voi dovete solo essere sicuri della sincerità della domanda, poi la risposta lui ve la dà e ve la darà nel momento giusto, qualche volta subito, qualche volta in modo abbagliante, qualche volta vi schiaccia, ma voi accettate perché l'amore è fatto così di sincerità, se non c'è sincerità non c'è l'amore, da voi parte quando parte la sincerità, l'amore, da lui l'amore è sempre sincerità e quindi vi potrà anche far soffrire e a un certo momento ti dice tu prete sei un poltrone, non sgoppi, guarda quegli operai che si alzano alle 4 del mattino e tu ti alzi alle 7 e hai paura a spendere due ore in un confessionale e trascuri gli uomini e trascuri i giovani e corri dietro a quello che ti piace e vai a cercare la penitente simpatica e hai i peccatori che ti aspettano, hai i giovani assetati, affamati e tu non fai niente, sei poltrone, cominci a sistemare la tua vita e qualche altra volta dice delle cose che fanno drizzare i capelli, sei un sensuale, qualche volta ti dice sono secoli che non preghi e le tue eucaristie sono dei sacrilegi, non hai la coscienza eucaristica, dice delle cose certe volte che fanno venire la pelle d'oca, ma dovete lasciarlo fare, lui è l'amore, ve le dice perché vi amo e vi vuole differenti, ecco e voi preparate il punto di conversione e il punto di conversione è difficile, allora preparate solo il primo passo del punto di conversione, questo è facile, il primo passo può essere una cosa molto semplice, può essere il prepararvi a scrivere i vostri peccati, può essere prendere il quaderno e scrivere tutti i doni di Dio, può essere avanti, comincia a leggere la parola di Dio in modo sensato, in modo rispettoso e chiedetelo a lui, Spirito Santo, qual è il primo passo? Cosa mi consigli? Fate solo il primo passo, ecco lì il punto di conversione, voi capite che è uno stile di preghiera così, ma vi drizza tutto, non potete più vivere in modo banale, vi schianta e voi vedete poi cosa succede nel vostro ambiente quando il prete comincia a pregare, puntualizzato bene il problema di conversione è tutto qui il nostro amore concreto al Signore e la preghiera del cuore spontaneamente si concentra in un sì generoso, in un eccomi, io trovo che la formula più perfetta è la preghiera sanguinante del gezzemane, la formula più perfetta della preghiera del cuore, padre non la mia, ma la tua volontà sia fatta, quella è la preghiera del cuore più perfetta. Naturalmente la preghiera del cuore diventa come l'allenamento di un atleta, l'atleta non si forma con qualche esercizio di volontà, si forma solo con l'allenamento costante e la pazienza che fa l'atleta e la pazienza che forma la preghiera del cuore e le parole vengono a nausea, si ha un bisogno sconfinato di silenzio, non si sopportano più nella preghiera le chiacchiere e le divagazioni, si va al nocciolo dei problemi e usate meno parole che potete. Volete ancora sentire cosa dice quel famoso padre orientale che vi ho citato ieri, San Giovanni Climaco, cosa dice sul parlare, parlare nella preghiera, sentite cosa dice, una sola parola è stata sufficiente al pubblicano e al figlio il prodigo per ottenere il perdono. Nella tua preghiera nessuna formula sia ricercata, il semplice e monotono balbettare di un bambino è sufficiente per commuovere suo papà, non essere prolisso, non distrarti a cercare parole, basta un grido dell'altro. E allora cominciate oggi a praticare bene la preghiera del cuore secondo questa indicazione che vi ho dato e poi continueremo e vedrete le gioie che vi ha preparato il Signore. E non scoraggiatevi se è difficile, scoraggiatevi se non sentite difficile, perché è segno che non avete capito. Duma, Duma in Piemontese vuol dire andiamo.